noi apriamo ogni giorno la mattina presto e a volte chiudiamo tardi in realtà spesso non chiudiamo proprio perché sui nostri traghetti c'è sempre molto da fare perché abbiamo 630 mila auto da imbarcare un milione 300 mila caffè da preparare 540 mila cabine da rifare ma soprattutto abbiamo un milione 600 mila di voi da portare in vacanza grandi navi veloci navighiamo con voi